Entro il 31 dicembre del 2025 in Abruzzo dovranno essere completati interventi per... ...si sta anche continuando a lavorare su quella che è l'ipotesi di una gestione unitaria del sistema idrico. Invece, come spiegato dal presidente della Commissione regionale di vigilanza, Sandro Mariani, il lavoro dell'organismo politico in materia di crisi idrica in Abruzzo continuerà chiamando in audizione i consorsi di bonifica per chiudere il cerchio sull'intero ciclo del sistema idrico integrato. E intanto per la gestione delle criticità ed emergenze nel sistema idrico rimane attivo anche il tavolo permanente che opera in collaborazione con l'ERSI, l'enterregionale servizio idrico, gli enti gestori e la protezione civile. Grazie a tutti.